ciao ragazzi l'ambrenedetto oggi facciamo un bel video facciamo finalmente la vera classifica dei top youtuber italiani 2017 prendiamo un arco temporale dell'ultimo diciamo anno e vi dico chi sono i maggiori youtuber italiani oggi questa è la classifica vera delle visual che la gente fa non degli iscritti che gli iscritti non contano un cazzo contano le visual cioè quanto la gente veramente ti guarda al primo posto assoluto c'è lui c'è fabi j fabi j lui ha un network che si chiama maker studio e lui è il primo posto assoluto al secondo posto c'è step 3 pny degli youtuber più seguiti in italia al terzo posto ci sono i pantellas i pantellas questo due dei ragazzi al quarto posto c'è ciccio gamer 89 al quinto posto c'è il vostro caro dexter al sesto posto c'è anima al settimo posto ci sono i the show all'ottavo posto c'è mi pare che sia il fratello di ciccio gamer che gioc 3 gioc 3r e al nono posto c'è qtp marzia che in fase veramente down lei sta molto andando giù ed è la praticamente la fidanzata dello youtube più famoso al mondo che pvdp e questi qua sono i primi nove youtube italiani più seguiti quelli che hanno più visual ok questa è la vera classifica poi al decimo posto al decimo posto se la giocano se la giocano vari youtuber fra cui c'è luke c'è zeb89 c'è lambrenedetto c'è utobi e c'è clio make up clio make up è molto in fase down in questo momento clio make up fa gli stessi numeri di lambrenedetto anche se lei sul tubo dal 2008 e gli altri youtuber luke ha dei sale e scendi zeb89 è costante così come utobi anche se devo dire che il decimo posto lo prende zeb89 perché zeb89 che con il suo canale fa gli stessi più o meno numeri di lambrenedetto ha comunque il network c'è quindi lui anche un canale network che è sgamer e quindi se uniamo le due cose direi che il decimo posto è per zeb89 undicesimo poi abbiamo utobi clio make up come ho detto appena giù c'è youtube fa cagare che questo ragazzo è molto in crescita quindi più o meno queste qui sono le posizioni top italiane degli youtuber più seguiti ok invece in base alle visual dell'ultimo più o meno preso un periodo di circa un anno che questi sono dati ufficiali non dati da lambrenedetto poi abbiamo tutta una serie di youtuber che comunque sono molto attivi per esempio prendiamo il mio amico danny mellow il mio amico danny mellow viaggia più o meno l'ultimo mese è andato abbastanza in crescita comunque viaggia alla metà di lambrenedetto mister haid fa la metà ci sono youtuber che stanno diciamo un po soffrendo che sono tutti quelli della vecchia guardia che ormai purtroppo fanno numeri rispetto al sottoscritto a zebo aiutobi fanno un quarto questi stanno veramente sono andati giù ci sono youtuber che fanno un terzo che comunque sono più o meno costanti come fede rossi per esempio franchi comando la diva del tubo viaggia un terzo dei di noi di utobi di zebo di lambrenedetto comunque anche lei va abbastanza bene per quanto riguarda il discorso è informazione lambrenedetto sul tubo fa un un quarto io da solo per l'informazione praticamente cioè ci sono io e tutti gli altri messi assieme io parlo di fusaro parlo di bio blues garbi eccetera eccetera tutti messi insieme fanno più o meno quello che faccio io ma ne sto mettendo almeno una cinquantina di tutti quelli che fanno diciamo informazione la 7 molto attiva ok io faccio più o meno riferito alla 7 attualità faccio quasi la metà anzi più della metà per quanto riguarda la rai che ha fatto più di 4.000 uploads io faccio mensilmente faccio un 20 faccio un quarto di quello che fa la rai io di dissi che facevo la metà semplicemente perché la rai attiva da 2005 2006 quindi hanno un termine cioè hanno un tempo di più anni rispetto a me comunque complessivamente io faccio mensilmente mensilmente faccio sul tubo sul tubo faccio sul tubo la rai sto parlando è faccio più o meno il 25 30 per cento di quello che fa la rai questi qui sono i dati ufficiali ok questi sono la vera classifica e lo so che qualcuno potrà dare fastidio che lambrenedetto vada a incalzare magari le prime posizioni entrato nella decima undicesima posto magari da fastidio che io faccio i numeri di youtube io faccio i numeri di zebbo faccio i numeri di clio make up sicuramente non andrò mai a scalfire i numeri di questi ragazzini che fanno quasi tutti i game player perché loro vabbè sono è secondo me irraggiungibile hanno comunque quando vengono fatte le classifiche o sui giornali o anche le puttanate che scasche sparano su internet gente che non è addetta ai lavori fanno le classifiche in base agli iscritti ma gli iscritti non vogliono dire assolutamente nulla non vogliono dire assolutamente nulla punto uno perché chi è entrato nel tubo come youtube nel 2006 o come clio make up nel 2008 come zeb o sto parlando di gente che magari era dentro molto prima crescere con gli iscritti era molto più facile una volta perché c'erano meno iscritti oggi uno scritto vero su youtube vale almeno cento o mille di quelli di una volta avere tanti iscritti non vuol dire niente ci sono degli youtuber che hanno sei settecento cinquecento quattrocentomila iscritti e oggi viaggiano a mensilmente un decimo delle visualizzazioni che fa l'ambrenedetto o che fanno ancora youtube è bravo youtube fa più o meno quello che faccio io quindi sono bravi sono bravi youtuber e non sto dicendo di niente questi sono i numeri questi sono i numeri delle diciamo del seguito che uno ha perché perché quello che conta per uno youtuber è il seguito non gli iscritti posso garantire che nomi ai nomi che vi ho fatto non gliene fotte un cazzo di avere mille duemila o compagnare quello che gli interessa è il seguito poi feci vedere già come anche sul tubo si possono comprare gli iscritti ok si possono comprare tutto si può comprare le visualizzazioni ma comprare gli iscritti secondo me per esempio è controproducente perché cosa mi cambierebbe a me comprare domani mattina otto novecentomila iscritti e dire va bene l'ambrenedetto a otto centomila iscritti metto lì due tre mila euro quattro mila euro li compro per modo di dire ma cosa mi cambierebbe ho gli iscritti ma non ho il seguito quindi preferisco essere nei top diciamo 10 nei top 10 per quanto riguarda il seguito perché è il seguito quello che conta è quando tu esci e ha a che fare con la gente che ti riconosce che ti segue che che non conta un cazzo di iscritti perché avere 5 milioni di iscritti e fare un cazzo non conta niente poi per quanto riguarda ovviamente le visual contano quelle complessive del mese cioè quelle complessive di tutti i video che tu hai con questo vengono fatta la vera classifica non conta niente che uno può fare 5 6 7 mila se uno magari mette tanti video magari fa meno meno rispetto a uno che ne mette magari uno quello che conta è il dato mensile e queste sono le classifiche vere questi sono i top youtuber italiani faccio una competizione con i game player io faccio una competizione tra virgolette con quegli altri che fanno informazione e l'ambrenedetto da solo fa tutti i numeri di tutti quelli che sono sul tubo che fanno informazione da solo io faccio questo perché l'ho fatto perché mi sono fatto un culo così mi sono fatto un mazzo così nessuno mi ha mai regalato niente io non ho un network di dietro c'ho solo l'ambrenedetto e tutto quello che ho fatto me lo sono conquistato giorno per giorno perché ho fatto vedere agli italiani quello che magari faccio la vera informazione quello che magari hanno smesso di fare in televisione non mollerò mai terrò sempre duro terrò sempre duro ringrazio tutti quelli che mi seguono e non mollerò mai